Il semino della fede, il lievito della grazia. 26 ottobre 2021. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente, non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che, anche la stessa creazione, sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti, che tutta insieme la creazione, gemme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello spirito, gemmiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza, infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, diceva Gesù. A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape. Che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero, e gli uccelli del cielo, vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora. A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Mia piccola Maria, a cosa paragonerò il regno di Dio? Nel Vangelo faccio due similitudini. Lo paragono al semino di senape. Il più piccolo, che cresce poi sì tanto da divenire una pianta maestosa, alla quale si potrà trovare riparo e frutto. Lo paragono al lievito che fermentando nella pasta può essere poi lavorato per divenire un pane fragrante. Tutti voi siete sottoposti a questo processo di lievitazione, sia a livello sociale, universale, che personale. Mediante una metamorfosi che passa attraverso il sacrificio e la prova. Il Dio, ha posto in voi il semino della fede e il lievito della grazia, che voi dovete evolvere e far crescere, perché porti il suo esito e il suo raccolto, ma ciò non è esente da impegno e sofferenza. Così, come il semino nascosto nella terra, deve faticare per allungare le sue piccole radici, e assimilarne il nutrimento per crescere, farsi stelo, ricevere le piogge e il sole. Per poter divenire fusto che deve difendersi dagli attacchi dei parassiti, e possa finalmente raggiungere la sua maturazione, e i suoi rami protendersi al cielo. Così, come il lievito che nascosto nella pasta la maggiora, si da poter essere lavorata e sottoposta alle manovre di mani che con energia la plasmano, per essere poi pronta ad essere infornata nel fuoco, per divenire nutrimento per tutti. La medesima prova la subisce la natura, come descritto nella prima lettura nella lettera di San Paolo ai Romani. Natura che è sottoposta alle doglie del parto per la sua continua rigenerazione e rinascita, procedimento perenne sino al compimento della risurrezione umana, in questa stessa ne sarà glorificata. Voi siete nell'attesa di farvi mio regno, simile alla creazione, e come essa siete sottoposti alla caducità, alla morte, ma innestandovi nelle potenze divine, ne assimilate l'eternità. Ne vivrete la risurrezione, e parteciperete con l'intero creato della sua gloria. Come avviene ciò, se non mediante la vostra fede? La fede e la grazia sono innestate in voi come semini. Lievito che vanno alimentati e cresciuti. Fede in ciò che non vedete, ma sperate, operosi in essa per fedeltà alla mia santa parola. Nell'opera fattiva che essa compie per mio amore. La fede si accresce, ed evolve la grazia per la santità. Per poter giungere a questo traguardo, a questa vittoria, di esser degni del regno di Dio, dovete farvi piccoli, nascosti, umili. Immersi nelle proprietà divine, simili al semino e al lievito, sì che il Signore Iddio, può plasmarvi a sé. Chi è minimo, si fa lavorare dalle sue mani. Ed egli accresce a pianta imponente e ricchezza di frutto, a pane genuino che può sfamare al bene il prossimo. Ancor più vi dico. Tutto questo processo di evoluzione alla santità, che avviene sulla terra per l'entrata in paradiso, quando poi i fatti vi ormai fattura per il regno, e ne sarete parte integrante, nelle altezze celesti la vostra ascesa. La vostra maggiorazione non si fermerà mai. Sarà in perenne espansione e salita, in quanto la conoscenza e la profondità dell'assimilazione dell'Eterno, è infinita. Nella misura in cui si accresce la sua sapienza vissuta, sia in questa terra come nel regno, la compenetrazione alla natura divina, vi fa sostanza che alimenta sempre più a santità i vostri fratelli. Sia in questo mondo, come nel cielo. Vi benedico.